Grazie a tutti voi, l'invito di Remind è sempre un piacere accoglierlo, è un po' stare a casa, diciamola così. Con Rix abbiamo accolto questo invito, Rix è una realtà associativa anglosassone, Royal Institute of Chartered Surveyor che raduna le professionalità nell'immobiliare a livello internazionale creando linee guida, criteri e metodologie di lavoro, oltre che lavorare a stretto gomito con il mondo universitario internazionale creando le best practice che vengono utilizzate da tutti i vari operatori del settore, quindi investitori, professionisti, ingegneri e tutte le professionalità che ruotano attorno alle infrastrutture e all'immobiliare. Abbiamo quindi un certo osservatorio interessante a livello internazionale che deriva da queste varie esperienze, da questi vari contributi che arrivano dal mondo accademico oltre che dal mondo imprenditoriale delle aziende, dei grandi investitori che ci permette quindi di poter vedere i megatrend e poter dare anche degli input e dei contributi di quello che sta accadendo. Noi abbiamo avuto recentemente la nostra conferenza annuale ancora a febbraio dove uno dei temi è stato appunto il tema della demografia dove sono stati dibattuti una serie di argomenti che oggi qui in questa sede è un tema dell'abitare, quello che sarà il mondo dell'abitare o comunque del nostro vivere quotidiano diverso aspetto a quello che è stato in passato ed è un momento storico piuttosto importante. Abbiamo le cosiddette 3D, demografia, digitalizzazione che sono i due elementi portanti e decarbonization chiaramente tre elementi importanti che condurranno la gestione degli investimenti, delle attività immobiliari che caratterizzeranno quindi le attività del nostro quotidiano. Un tema demografico in particolar modo caratterizzerà anche il nostro modo di vivere, di abitare nuclei familiari chiaramente sempre più ristretti, popolazione in decrescita, chi la chiama decrescita felice chi al contrario, però diciamo che sarà un mondo caratterizzato chiaramente da grandi momenti di ripensamento del nostro vivere. Cosa succede? L'impatti su grandi città rispetto alle città minori, sono state citate adesso Pietrasanta che tra l'altro conosco molto bene l'intervento sul mercato comunale trasformato nel museo di Mitorai, molto bello, però diciamo che c'è quindi un momento in cui le nostre città le dobbiamo ripensare, ripensare non soltanto le grandi città che possono essere attrattive, Roma, Milano chiaramente, ma che rientrano nelle destinazioni dei grandi investitori, dei grandi investimenti, attrattori di grandi investitori e di grandi investimenti a livello mondiale. Milano, Roma sono nell'ambito europeo tra le 10-12 destinazioni di investimenti mondiali, per cui rientriamo nel ranking delle prime 10 città in cui si investe. Ma detto questo dobbiamo pensare anche alle città minori, quello che può essere una nuova vocazione in cui a differenza di alcune città che semmai si allargano, per cui abbiamo un fenomeno di gentrificazione, abbiamo l'obbligo di pensare anche a cosa fare, quale possono essere le destinazioni e le vocazioni di certe città, chiamiamole brutalmente secondarie, ma che secondarie non sono, che hanno delle loro caratteristiche, delle loro peculiarità, che non essere identificate e valorizzate. Se pensiamo soltanto a tutto quello che è un fenomeno legato al tema demografico, ma che ha impatto su tante città e non solo città come Milano, Roma, ripeto, tutto il mondo studentato, tutto il tema del senior living, sono momenti che portano a dei forti ripensamenti perché città universitarie importanti in Italia sono ben più di una e che possono essere oggetto di grande attrazione. Quindi dobbiamo ripensare questo momento non soltanto dell'abitare ma di tutto quello che è la filiera dell'infrastruttura per cercare di creare quei momenti di attrattività. Cosa vuol dire infrastrutture? Tutto il modello anche della mobilità, ovviamente il momento di ingegnerizzare e progettare cose diverse in maniera innovativa, ma soprattutto cercando di rispondere a questi nuovi bisogni che oggi caratterizzano la popolazione in senso lato, cioè un nuovo modello di popolazione che non ha più famiglie numerose ma ha dei nuclei di single, quindi esigenze abitative totalmente diverse. Ultimo cenno è un fatto legato a questa prossima scadenza che sarà della trasformazione energetica e quindi sull'incremento prestazionale degli edifici dove, a livello europeo, si è cercato di creare uno standard omogeneo un po' per tutte le latitudini. Francamente ho qualche dubbio, qualche perplessità a riguardo perché le trasmittanze energetiche che stanno a Helsinki non sono quelle che stanno a Palermo, per cui le esigenze di creare abitazioni o comunque edifici con caratteristiche diverse purtroppo devono rispondere a tecniche costruttive diverse, quindi non creando elementi di polemica quanto piuttosto di cercare di applicare quelle che sono poi delle norme, calarle nell'ambito di un contesto territoriale diverso e che rendono quella norma ragionevole e applicabile. Su questo devo dire che come RICS ci siamo sempre mossi e continuiamo a muoverci anche su questo tema delle norme e delle, non dico tanto interpretazioni, ma quanto sull'applicabilità di determinate disciplina creando quindi dei dialoghi anche con le istituzioni, con il mondo accademico per dare quindi delle risposte sull'applicabilità di certe regole, certe norme che chiaramente hanno una loro ragione d'essere, ma a volte hanno difficile applicazione per evidenti ragioni geografici e climatici. Abbiamo parlato appunto di un modello demografico diverso, stili di vita diversi che ci portano quindi a ripensare non soltanto l'abitare ma anche il mondo del lavoro, per cui anche su questo vediamo ormai questa migrazione sempre di più su il lavoro in remoto, il trasferimento e il trasporto di merci, quindi l'attività di stoccaggio e di creazione di luoghi, di centri logistici che possano rendere il mercato più vicino e più prossimo al fruttore, al consumatore finale, quindi con una catena distributiva totalmente diversa. Quindi siamo in un momento storico, particolarmente rilevante, dove questi momenti come oggi questo di Remind ci permettono di fare anche delle riflessioni, di pensare come affrontare queste nuove sfide. Ti ringrazio Paolo.